Chiesa gremita, quella del Sabato Santo, per l'ultimo saluto a Luigi Villamagna, il 23enne di Vasto, deceduto a Parigi dopo essere stato investito da un'auto pirata. Il ragazzo si trovava nella capitale francese per motivi di studio, stava infatti portando a termine l'Erasmus. C'erano parenti, amici e istituzioni di Vasto e Pollutria al suo addio. Anche Dio sta piangendo con voi e l'efferatezza umana che ha portato a questo sono le toccanti parole di Don Gianfranco Travaglini pronunciate durante il funerale. A fine cerimonia gli amici e la sorella hanno letto due lettere. Il tempo per Luigi era questione di qualità e poi mi ha insegnato a vivere sempre con il sorriso. Sei stato nelle nostre vite come una stella cadente, continuerai a brillare sempre per noi. Un giorno se avrò un figlio gli darò il tuo nome per ricordarmi che gli angeli vivono ancora sulla terra. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla chiesa. Intanto sul fronte indagini le autorità francesi stanno indagando per cercare di rintracciare il responsabile di questa immane tragedia.